La disattenzione di una coppia nella pulizia della propria abitazione, ma anche delle scale, dell'androne, della palazzina in cui vive, rischia di mettere in pericolo la salute pubblica. Dall'edificio in corso Garibaldi a Sapri viene fuori un odore nauseabondo, tanto da spingere il comune ad emettere un'ordinanza per obbligare la coppia in questione a ripulire l'intero fabbricato. Il provvedimento, che dispone il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, è stato emesso dall'ente locale dopo la relazione scritta dal dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL al termine di un sopralluogo eseguito nel condominio. Secondo quanto accertato, all'interno dello stabile, già a partire dall'androne e fino all'ultimo piano, è interessato da odori nauseabondi di deiezioni animali. In particolare, si legge nell'ordinanza, l'abitazione in cui dimora la coppia si presentava in condizioni igienico-sanitarie pessime dovute alla presenza di escrementi di origini animali diffusi e in particolare una stanza usata per il ricovero degli stessi risultava a dir poco impraticabile. I dirigenti dell'ASL hanno dichiarato che le condizioni riscontrate non solo all'interno della casa dei proprietari degli animali, ma anche nell'intero condominio, può rappresentare oggettivamente un grave pericolo per le persone che vi abitano, ma anche per la salute pubblica. Le due persone interessate sono state obbligate dal Comune a ripulire. Un'ordinanza analoga era stata emessa qualche mese fa, ma i destinatari l'hanno disattesa. Chissà se questa volta rispetteranno l'ordine.